subscribe ah si si può fare comunque tu hai il bellissimo fidanzato vi somigliate allora ragazzi ce lo dicono tutti quanti in realtà vi dobbiamo dire una cosa siamo cugini no non è vero che schifo che bello ma questo è il mio sogno da sempre ve lo giuro perché ho deciso questa cosa tu ogni domenica devi stare qua ma anzi ogni tutti i giorni qua Rita quanto ci vuole non riesco a rimanere da sola intrattenere ragazzi ma una cosa non è una cosa seria è serissimo sto cominciando a sudare freddo non so se va bene per il tuo colore ma stai cercando luce non ci sto toccando nemmeno devi stare fermo ah ma il correttore non è niente non hai tutta questa delicatezza che pensi secondo me ma non è vero proprio ma quando mai perché ragazzi secondo voi non sono delicata non sono delicata fammi giudere prima l'occhio ah scusa perché si ma non lo devi strizzare lo devi rilassare bravissimo scusami se non mi so far truccare nella mia vita non mi sono mai truccato devi rilassare mi brucia tantissimo ma non puoi bruciare è impossibile dove stai andando mi è entrato tutto nell'occhio brucia proprio assai ma non è possibile acqua come ti fa bruciare Luca non devi strizzare l'occhio perché non va bene la cosa che mi si apri ahia ahia vedi che stai meglio non devi strizzare cacchio dell'occhio la differenza guarda la differenza dove sta la differenza questa non è il pizza ci stanno guardando proprio i nostri profili migliori guarda ma tu mi dà la faccia stacco la caretta come vi baciavate ma sembra bo di ci ho messo tipo due anni e mezzo per capirla facciamo vedere come ci salutiamo quando entra la porta vai ma ci giochiamo a spade mi stai veramente stressando ce lo giuro sott'occhio l'ho preso per un kinder buono non mi chiedete perché si mangia la verità la smizzi me lo incontrerai dal vivo il collo me lo stai levando si sta facendo di tutto però non farsi truccare momento esimo quando hai Luca con delicatezza Rita c'hai c'hai i modi di un camionista proprio quando è il giorno peggiore del traffico della sua vita da vita guarda non sta facendo proprio niente mi hai fatto malissimo mi sta scherzando non si è truccare la gente poi io non lo sto nemmeno toccando ve lo giuro ma se io ho messo con l'occhio aperto e tu mi sprucci nell'occhio non è che c'è bisogno di toccarmi non l'ho sprucciato niente nell'occhio avete visto voi vedi che se tu mi stai facendo male mi è più Luca ma non ci sta più la fotocamera profil che c'è ti sta stressando no no è tutto tanto piacevole essere infizzato un pennello nel bulbo culare comunque davvero stressante truccarti tu non sai truccare la gente ma lo vedete sta così lo sta truccando così io come posso truccarlo mai bene vuoi rilassare l'occhio guarda qua cioè è fantastico questo questo shimmer su di te apri gli occhi fantastico cioè per me è ottimo ma rilassa wow che stress mamma mia che stress guarda come me lo sta facendo wow ma io ve lo giuro è davvero stressante molto stressante truccare quest'uomo davvero ma tu che taglio d'occhi c'hai io 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 so in video mi sento tipo con i padri di famiglia che vengono truccati dalle bambini dalle figlie ma tu sai benissimo così e metti qua a familiarizzare il sogno della mia vita del liner al mio fidanzato rita rita il fatto che tu hai questo fetisci per truccare il tuo fidanzato non è normale fai 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 guarda qua abbassa una puntella di liner e subito gli sta bene a me maggio fanno chi l'uoso gigante senza parole cioè senza parole ma guarda quanto sta bene ma ci somigliamo vero ancora di più così chi è stefania hai scelto per momento sbagliatissimo per iscriverti stefania il migliore comunque ho seguito questo è la conseguenza del vostro voto ci siamo fatti sei giorni ci siamo fatti sei giorni questo invece devi dire che brucia no questo non brucia no non brucia niente i make up non brucia niente mi brucia solo a me mi brucia sarò allergico scusate i make up bruciano non penso che è sta faccia che è ma secondo te a me piace questo è piacevole per me piacevole è bello fare una cosa del genere è divertente sì è divertente fare una cosa del genere è divertentissimo tipo col fishhop ma da quello è venuto benissimo apri wow sei fantastico amo stai facendo il video di dare devi smettere vabbè che sto facendo il video di rispettare ieri bellissimo fidanzato chissà come si è fatto truccaio c'è un evento proprio raro questo non succederà mai più forse no forse no sì no sì amo ma non è che ti piace sì ragazzi anzi grazie mille perché mi subite tutti i giorni comunque sì domani sempre più meno cioè io sono obbligato voi invece le date a cercare come sei obbligato nel senso che vivi con me sono obbligato a sopportarti la usac ha regalato un abbonamento ma no ci vogliamo bene grazie mille a tutti e ricordatevi sempre ciao 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 ciao